Oggi torniamo a Firenze e lo facciamo analizzando la rosa della Fiorentina. Quanto vale la rosa della Viola? A che posto dovrebbe classificarsi la Fiorentina alla fine di questo campionato? Rispondiamo a queste e a molte altre domande sempre da un punto di vista finanziario. Mettetevi comodi, partiamo subito dopo la sigla. Io sono Luca e questo è Fratelli in Finanza. Prima di focalizzarci sulla rosa della Fiorentina per la stagione 2023-2024 facciamo un rapido cenno al mercato della Viola. Mercato che si concluderà tra qualche giorno. Al momento il saldo della Fiorentina è ambiamente positivo. La Fiorentina ha speso 42 milioni a fronte di 53 milioni di entrate, quindi per la proprietà si parla di più 11 milioni. Quali sono i movimenti più importanti? Per quanto riguarda le entrate, la Fiorentina ha acquistato Parisi per 10 milioni, Brian Zola per 10 milioni, Arthur Melo in prestito dalla Juve per 2 milioni di euro, un'occasione grandissima ed un top player mi permetto di aggiungere. Ed infine ha acquistato anche Beltran per 12 milioni di euro, più altre piccole operazioni minori che neanche vicino. Dall'altro lato invece, quali sono le vendite più importanti per la Fiorentina? Non ne ha fatte tante, ma le poche che ha fatte sono di un grosso valore. Partiamo da Cabral per 20 milioni di euro, Igor il difensore centrale che è stato venduto al Brighton per 17 milioni di euro, il terzino Terzic è andato via per 5,50 milioni di euro. Siamo pronti ad addentrarci sulla rosa di questa stagione? Partiamo subito, no? Aspettate, ci sono due disclaimer da fare. Uno, le cifre che avete già sentito e che continuerete a sentire nel corso di questo video vengono da Transfermarket.it, come sempre. Due, che cosa state aspettando? Iscrivetevi a questo canale se non l'avete ancora fatto. È solamente un click, ma per me è fondamentale per crescere su YouTube e far crescere la nostra piccola community. Partiamo subito, andiamo ad analizzare la rosa della Fiorentina e vedremo i titolari e tutti i giocatori più importanti quanto valgono uno per uno. Alla fine vi dirò il valore totale della rosa della Fiorentina e dove dovrebbe classificarsi in base solamente al valore economico della sua rosa. Vedremo un po' se rispetta le vostre aspettative, amici Viola, ma rimanete fino alla fine del video per scoprirlo. Partiamo subito, quando valgono i portieri della Fiorentina? Abbiamo Terracciano che ha un valore di 2 milioni di euro e Christensen che ha un valore pari a 4 milioni di euro. Passiamo subito alla difesa. Al centro della difesa troviamo Milenkovic, una delle colonne portanti dell'intera rosa. Il suo valore di mercato si aggira attorno ai 18 milioni di euro. Accanto a lui abbiamo Ranieri con un valore di mercato pari a 2,5 milioni di euro. Mina che ha un valore di mercato pari a 10 milioni di euro. E l'argentino Martinez Quarta con un valore pari a 10 milioni di euro. Ma la sua permanenza in Viola è in forte dubbio. Sempre più voci si aggirano attorno al suo nome lontano da Firenze. Lo scopriremo nelle ultime ore se rimarrà a vestire la maglia viola ancora per una stagione. Passiamo sulle fasce dove troviamo il capitano Cristiano Biraghi che ha un valore di mercato pari a 5 milioni di euro. Il nuovo arrivato Parisi con un valore di mercato pari a 10 milioni di euro. E Dodò con un valore di mercato pari a 20 milioni di euro. Passiamo al centrocampo dove troviamo Amrabat con un valore di mercato pari a 30 milioni di euro. Accanto a lui abbiamo Arthur Melo, il nuovo arrivato dalla Juventus, che ha un valore di mercato che si aggira attorno ai 15 milioni di euro. Sempre su quella zona di campo troviamo Rolando Mandragora, anche lui il nuovo arrivato e che ha ben figurato nelle prime due partite. Il suo valore di mercato si aggira attorno ai 10 milioni di euro. Barak, anche per lui il valore di mercato è 10 milioni di euro. E anche per un altro giocatore cresciuto nel vivaio della Fiorentina, Castrovilli, il valore di mercato è sempre 10 milioni di euro. Leggermente inferiore il valore per Dangan. Il suo valore di mercato si aggira attorno ai 4 milioni di euro. Spostiamoci un po' più avanti, dove troviamo Benassi, che ha un valore di mercato pari a 1,5 milioni di euro. Sottil, con un valore di mercato pari a 8 milioni di euro. Jack Bonaventura, un altro degli elementi cardini di questa squadra. Un pezzo di cuore di questa squadra, che ha un valore di mercato pari a 2,5 milioni di euro. E l'ala, forse più in forma in questo momento della Fiorentina, Nico Gonzales, che ha un valore di mercato pari a 30 milioni di euro. Siamo arrivati all'attacco, la parte più interessante per molti tifosi. Qui troviamo Luka Jovic, che ha un valore di mercato pari a 8 milioni di euro. Brian Zolaio, il nuovissimo arrivato, che anche lui ha un valore di mercato pari a 8 milioni di euro. Beltran, anche per lui, siamo alla maglia della Fiorentina da vestire appunto quest'anno. Un nuovo arrivato, il suo valore di mercato si aggira attorno ai 12 milioni di euro. Ed ultimo, Christian Guamè, che ha un valore di mercato pari a 12 milioni di euro. Ok, ora sappiamo le cifre dei giocatori più importanti di questa rosa, ma quanto vale l'intera rosa della Fiorentina? Momento di suspense, 274 milioni di euro. Mi sembra una buona cifra, sì, ma rispetto a che cosa? Dobbiamo andarla a paragonare con le altre squadre del nostro campionato. A che posto si dovrebbe classificare la Fiorentina? La Fiorentina ha la settima rosa della Serie A. In questo momento la Fiorentina, se andiamo ad analizzarla solamente da un punto di vista fiscale, dovrebbe classificarsi al settimo posto, quindi andarsi a giocare ancora una volta i preliminari per accedere ai gironi di Conference League. Qualcosa che ha fatto anche l'anno scorso per via appunto della penalizzazione della Juventus. Quindi la rosa della Fiorentina non si discosta moltissimo da quella che ha concluso il campionato scorso. Ma attenzione, ci sono dei cave Canem da fare. Uno, il mercato non è ancora finito. Qualche altro giocatore può sicuramente arrivare a Firenze e rimbolpare la rosa di Viola. Due, se i numeri che vediamo sulla carta, se i calcoli che stiamo facendo insieme, fossero sempre quello che si vede in campo, non ci sarebbe nessuna partita da giocare. Come dice il più vecchio dei proverbi, la palla è tonda, il campionato è tutto da giocare. Quindi sulla carta la Fiorentina ha la settima rosa in questo momento, ma non significa che si classificherà settima. Può sicuramente andare meglio, guadagnare qualche posizione o anche peggiorare. A che cosa è dovuto ciò? All'allenatore, al gioco che imprima la squadra. E la Fiorentina, per quanto riguarda il mio modestissimo parere, ha un signore allenatore. Un signore, un incenso italiano, che conosce molto bene il calcio, fa giocare bene la sua rosa, valorizza i suoi giocatori. E quindi non mi stupirei se la Fiorentina si classificasse qualche posizione in su rispetto a quando dicono i suoi bilanci o a quando dice la sua rosa. Ve lo auguro di cuore, amici Viola. Che cosa ne pensate, ragazzi? Scrivetemelo qui sotto nei commenti. Lasciate un mi piace se il video vi è piaciuto e suggeritemi altre squadre che volete che io analizzi. Per oggi è davvero tutto, ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!